GUNDAM BREAKER 4 Il capitolo in cui siamo forse riusciremo a sbloccare qualcosa di particolare a livello di trama Quindi non vi faccio perdere ulteriori tempo e direi che possiamo iniziare Bene, eccoci qua, direi di partire subito anche perché sono sicuro al 100% che oggi ci sarà veramente tanto, 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 ma tanto da parlare Dato che questa è l'ultima missione del capitolo e nello scorso episodio come abbiamo visto i risvolti della trama come finalmente è successo e come speravo Si sono fatti molto più interessanti Ok, e attiviamo la missione E vediamo un po' Dai Olè Ah, quindi dobbiamo fare la finale? Succederà sicuramente un casino No Ah, siamo contro il tizio super mega hyperforte Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente un po' Un po' Un po' esaltato il tizio Chissà che casino succede quando scoprono che Lilin c'ha il virus dei cheater Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente un po' Succederà sicuramente un po' Che io giustamente avevo preso Questo invece è un semplicissimo dom Un po' Succederà sicuramente 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 un po' Vediamo Oh, voi Grazie Allora Può che Lilin sia la seconda? Sì? Io? Sì? Ah no, è stata tirata dentro per caso Ok, ci sta di più Non ho sicuro Non devi essere così modesta Lilin è vero Tu eri incredibile in quella ultima fight Scusa fuori e fai ancora Ok, faccio il mio migliore Un'altra cosa, certo? In questo caso Deve essere tu Tuttavia Credo che potresti anche dare Maestro un ruolo per il suo pieno A questo punto Vediamo cosa possiamo fare Questo è il nostro team Se vinceremo qui Siamo i nuovi campioni di GB4 Siamo tutti quanti a te Dubito che andrà a finire come volete La trama mi Suggerisce altro E direi che si parte In realtà oggi Il lancio del Ganker Potevo farvelo anche vedere Bella sta mappa Mi sa che non l'ho mai fatta O forse sì con qualche boss Non me lo ricordo Ma non vedo l'ora di poter Utilizzare Gli oggetti di livello più alto Per potenziare la rarità Dei pezzi Perché Creare un nuovo Gangpla Adesso e massimizzarlo Per me è un delirio E già dato che vorrei Portare qualche altro Gangpla diverso Sinceramente parlando O almeno provarli Ma se faccio così BOOM Ho spaccato tre punti per niente Però li ho uccisi tutti con un colpo Mi sono letteralmente rimasti due Io sono sicuro al 100% che succederà qualcosa di assurdo Prova della fine Oh Master Asia Ah no allora lui di base ha quelle ali Che nello scorso episodio c'era il tizio che ha il suo Gangpla identico La rosso Pensavo che avesse Delle ali Aggiunte Diverse Invece era proprio lui che ce l'ha Me l'ho dimenticato Orribile la sua arma Che ce la fa rusta Ecco quello lì In quasi tutti i giochi Dei Gundam Fa da maestro Master Asia Perché è il classico Personaggio anziano Alla Non so Genio delle tartarughe O roba così E' il classico maestro Mettiamola così Ok Attiviamoci nuovamente lo scudo Tanto non è che mi facciano particolari danni Oh vè Oh questo si sembra Sarai equipaggiato per la mossa? No Questo Gangpla c'ha un difetto E' che di base ti viene nel tuo senso un pezzo Che poi è quello che gli fa fare la super mega hyper mossa sua E si può tenere completo solo quando si prende dal negozio Quanti punti c'ho? Tanti Dov'è? Noo Perché ce l'avevo troppo vicino Fuori Tanto i danni che mi fanno sono Irrisori Ho fatto il bazooka atomico ma Sì vabbè bravo Ho lanciato troppo lontano Doppia trivella Fuori uno Trivella Doppio avvitamento Scoppia 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 Adesso non utilizzo i missili perchè Tanto una volta ha ucciso Si passa al prossimo stage In teoria Si? No? Forse? Si Posto L'uso dopo Questo Questo Dov'è? Dov'è? In che mappa saremo? Oh! Carina questa l'ho fatta una volta Se non sbaglio da quando ho iniziato Che è tipo un ponte rotto Che è tipo un ponte rotto Una roba del genere Mi ricorda Una mappa di Ambarco Quella Quella della quest finale Anzi una di quelle della quest finale No! Ma che mira? Ah! Ah! Perché mi ha mirato Quello che stava sotto Ok Facciamo così eh Tanto che ho Quasi 9 punti Che almeno Facciamo prima Un po' Tante parti mi stanno dando Oh cos'è l'unicorno? Si si O forse no Non lo so Au! Anche se dico au In realtà I danni sono zero Mi ripotenzio tanto Continuo ad avere il massimo delle stack Rifassiamoci lo scudo Mi è apparso dietro Oh carino Cos'era il verso tipo del lupo? Un'abilità del Del Gangpla Eh si Eh Poi del lupo Magari il verso di un drago Comunque di qualche creatura del genere Ho sbagliato a spillare? Ok adesso no L'ho Devastato Si Comunque si vede tantissimo Quando finisce quel potenziamento Cavolo Che rallenti in maniera esagerata Boh Anche questo stage è andato E ora c'è l'ultimo E adesso Sono Cazzi In mani Ci sarà un filmatino Ne sono sicuro Eh infatti Quanto sono grosso No Perché quello vola Perché è troppo basso Sono per l'inquadratura E cosa pensi di poter fare? E cosa pensi di poter fare? Così eh No Te lo chiedo per Simpatia Uno Due Prendo proprio Per primo Ah Così Ah Che si fermano tutti a guardare ma è lui Oh no La reale Inizia 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 Quindi Vai poco lontano Te lo dico Guarda mi ha anche finito lo scudo Hai forse la possibilità di farmi più danno del dovuto E invece no Il fatto è che mi faccia zero danni Inizia 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 Eh infatti Era palese che fosse un'intelligenza artificiale Dai Ha 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 Isn't it obvious? Her mobile suit is completely under my control All thanks to the virus of course What virus? You mean GBV? Lilin What's he talking about? I'm sorry I You were the one spreading it all along We'll settle this later Artel Ripe Protect her Understood Eh sè Proprio Now now We can't let you do that I'm afraid you'll have to get through us if you want to go any further If you can That is Guardate capo voi come ho aperto gli altri Give Lilin back She's my She's our friend Give her back I'm afraid not She has an important job to do She's the key to everything that is about to happen The key? What are you going to do with her? No need to worry You'll understand soon enough I promise you that I don't care about your stupid plan Let her go Help us fight them We'll work together and break through Take that You're open Let's go I'm in the mirror Tu levati Dalle palle Una What? It's not going to be my car So the batto in a millisecondo Eh immaginiamo che questa missione fosse lunga No no ma tranquillo mi fai danno You're open Come on Come on Ha 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 Lilin Ha Another one? From where? The armies of GB4 are mine now One thought from me and they defend their master Oh oh Other players mobile suits? They're being controlled by the virus GBV We should have dealt with it sooner There are so many They won't let us get close That's right All you can do now is stand there and watch A meno che non arrivino anche per noi dei rinforzi Eh gioco The masagna Lohen! Ha 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 Molto male Fine quest No Arrivano le pedine a meno che gli avversari non siano infiniti non mi sembra così difficile devo stare zitto ma già scritto in alto ok elimina il nemico quando il controllo del campo loro non sono infiniti magari sono infiniti fanno succedere qualcosa o finalmente la trama contato colori è in risveglio visto adesso non è che ma c'è una macchina che vola una macchina volante non da che bella eh facile da chi è arrivato e lui fa un po' da da padre a lei come minimo lui ci darà una mano a risolvere tutto eh e beh gli hanno sparato direttamente oh l'in non devi risolvere a me posso trattare un po' di ma sembra molto male tu sei sicuro che sei bene non è un problema sono venuto a te come ti cosa sta è un effetto di invasione di libera questa tutta la macchina è si ci siamo iniziati ci siamo iniziati i nostri dati potrebbe essere corrupti sta cambiando avatar sta la nostra amica lei sta impazzendo mi sembrava strano che fosse troppo attaccato a lei ho le missioni completata ok cos'è sta grafica ha creato una mappa boom ottimo ottimo io potrei destruire il gioco in questo momento e scoprire ogni personaggio nel database ma non sarebbe divertente ma questo non sarebbe divertente quindi ecco la cosa ti darei una ultima possibilità il gioco è semplice io ho modificato il simulatore per creare la fortuna che vedete prima la 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 Mi rispettava che era un tipo di scopo, ma non potrei mai pensare questo. Come potessi? Sì, e ho sentito cose, o ha chiesto Lillan un AI? Hey, Lin! Wait, chi è? Wow, chi sava che una bellezza era dentro di questo scopo Mr. Gunplog costume? Adesso se lo spiega. Mi chiamo Misa, sono il cusino di Lin e il guardia legale. No, i dettagli possono aspettare. Prima, bisogna dire cosa ha fatto durante questo tournament. Ok. Sorry, tutti. Non potrei salvare Lillan. No, non è la tua scopo. È stato l'occhio che chiede l'occhio. L'occhio chiede l'occhio, ma lui ha solo l'occhio in-game avatar, right? L'occhio dovrebbe essere bene all'occhio quando si lo scopo, non? L'occhio, poi potrebbe andare in la lobby con il resto di noi. L'occhio che non può, non mi, potrebbe essere un AI l'occhio di tutto il tempo? Non è possibile. Quindi, se lo scopo, se lo scopo, allora... Sì, sono scopo che è vero. No, certo, è stato un po' strano all'occhio, ma non è vero che era un programma all'alonga. Sì, credo che capire una rosa AI ha stato il plan all'alonga. All'occhio, sono usato il virus per farlo, cercando di farlo di un'alonga di routine. All'occhio, hanno proprio bisogno di trovare l'occhio. All'occhio, quindi, se lo scopo che era l'alonga, si aspettavano che era l'alonga di un'alonga. Beh, intanto rinnovare Gangpla non sarebbe una cosa sbagliata. Perchè, secondo me i miei alleati sono un po' scarsini e magari dovrebbero leggermente modificare i loro bottoni. Ah, quindi diventiamo direttamente alleati. Mi servite ben riposati, ok? Mi servite ben riposati, ma anche se i miei aiutori saranno un plan. Mi servite ben riposati mentre puoi. Come... ehm... come il Meister Jinn ha detto. Il meister Jinn ha bisogno di trovare il nostro meglio. Certo, siamo pronti. Solo guarda, Lilian, siamo arrivati! Comunque in sottofondo non ci avrei messo sta musica, ma avrei fatto il contrario. Invece che mettercene una molto lenta e similtriste, ce ne avrei messa una leggermente più... come si dice... veloce e più... Ok... ok, 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 ok. Adesso devo andare a vedere, ma in teoria dovrei poter semplicemente livellare il Gankla. Abbiamo 2800... Cosa? Uh, c'ho il mio Gankla là. Ah, è cambiato lo sfondo adesso, è tutto viola all'esterno. Ci sta! Ottimo come effetto. Vediamo se hanno aggiunto nel negozio... Roba nuova da prendere. Anche perché adesso la chiudiamo qui, cioè questo video è stato fin troppo lungo per una singola quest. Ah, basta? Ok. Ottimo. Fammi un attimo vedere... Una piccola questione. Allora, lì ci saranno sicuramente le nuove missioni per il nuovo capitolo a livello secondario. Voglio capire a che livello posso arrivare adesso. Allora, andiamo nei progetti. Andiamo sulla testa. Sintetizza. Qui... Sono al massimo? Sì, boh. Allora, qui sono al massimo. Oh, finalmente! Mi ha dato le livello due di esperienza. A che livello si arriva? Al... 29! Ottimo! Tenendo conto che secondo me mancano almeno altri due o tre capitoli perché secondo me il livello massimo è 50. quella vaga idea. O una cosa del genere. Beh, vabbè. Adesso pian pianino mi diverto a portare tutte le parti a livello 29 che tanto non mi costerà nessuna fatica perché ho una quantità di punti illegale e quindi nel prossimo gameplay avrò il gunpla super mega potente. Ma poi adesso voglio fare, come dicevo, le altre quest secondarie più che altro per... eccole qua. perché voglio i nuovi potenziamenti. Io ho letto che ce ne sono di tre livelli, di livello 1, di livello 2 e di livello 3 delle varianti che abbiamo già visto e quindi voglio capire fino a quanto il nostro gunpla potrà salire velocemente a livello di gioco. E quindi quanto potrà essere facile crearne di nuovi da zero perché la mia logica è quella, cioè io quando finirò questo gioco inizierò a portare gunpla potenziati al massimo a manetta tipo build. E mi serve poterli fare in pochi giorni anche solo per portare gunpla come questo, quindi fatti prendendone uno di base intero e modificandolo. E questo mi è di aiuto o perlomeno lo sarà quando capirò esattamente la taratura dell'entità dell'esperienza che mi danno. Comunque, detto tutto questo direi che per oggi la possiamo chiudere qui. Quindi qui dal vostro maestro Obi-Wan per Obi per oggi è tutto. Come sempre che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.